Benvenuti ragazzi, questo è un video di Poké07 Allora, non ho avuto tempo di livellare i Pokémon Rispetto alla parte scorsa un po' di tosse Ecco, ragazzi, ci avevamo lasciati con il regalo di Cermander Ho dovuto vedere Mew come si fa, ho capito quali sono L'altra faccia totativa è quello là, è uno là in su che non bisogna battere E quindi non li batteremo E attiveremo il glitch Spero di prenderlo, se non lo prendo va bene così E ora non si trova qui, ma si trova per il nostro precedente Per andare a prendere la propria bisogna andare da Lissurge Da Lissurge bisogna prima sbloccare la polizia Per sbloccare la polizia bisogna andare qui Ma qui ho detto che bisogna usare il surf, quindi non so come si fa Proveremo Ah, questo qui bisogna abbatterlo Questo qua Non ci davanti, perché tanto non me ne frega niente C'è il Monte Luna, quindi forse dovremmo entrare nel monte per andare da Bill Non lo so Avventuriero vuole luttare Mi manda Machop Mi mando Chari Così può andare bene sia per Charmant, Charmiglio e Chalizard Mi mando Machop Mi mando Cornuta Non voglio che mi buttino subito giù Pikachu Colpo Karate Azione Colpo Karate Tutto colpo anche lui Azione Solo che con un'azione apparente Ecco lo butto giù, lo uso colpo Karate Mi facevo praticamente brutti colpi Geodude Dubbio calcio Dubbio calcio Schianto Schianto Nooo Schianto e fallisci Già funziona poco Ecco Non c'è La difficoltà che ho fatto nel battere Brock No, guardate Di ce lo scudo Per non andare a continuare Lo usare Andiamo a usare l'attacco rapido E prima ho già buttato giù Cornuta Ottimo lavoro Ma mi ha già buttato giù un po' Che è molto schifoso Ecco Quello lì Quello lì Facoltativo Ecco E poi torniamo da Bill Quindi devi andare da Bill E poi dopo torniamo indietro Cioè battiamo tutti questi E poi torniamo indietro da Bill Onyx Cioè dai ragazzi Non ci credo Lo fanno tutto apposta Non soltanto Pokémon di tipo terra Doppio team Non ci apposta così Mi aumenta l'illusione Mi fa tutti gli attacchi Mi manca Così almeno io avrò più possibilità Di farle male Perfetto Tu non shock Giusto Attacco rapido Non faccio una pippa Schianto Non le faccio una pippa Ragazzi Ti prego buttiamolo giù E poi andiamo subito al centro Pokémon Nooo Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Todici Tredici Quattordici Quindici Sede Sette Diciotto Dicennove 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, sì Mettendoci contare a porta fortuna C'è le sali vele 12 a caso, sì, sali, sali, sali Tutto avventuriero Niente male, boh, battiamo anche questo Me ne frego Vieni qua, tutte le volte mi fanno tutti i percorsi Devo fare pratica Io sono andato qua per rivolvermi i Pokémon Il bullo Arratata, vabbè, questi qua sono i Pokémon semplici, dai Nivello 15 Devo mettere Electroball, sempre Electroball, dai Mettiamolo su Mi volevo le prebutate che quasi quasi volevo non giocare nemmeno più Perché faceva veramente schifo che per le Pokémon sono un bordello, non trovo i Pokémon Non trovo i Pokémon, è impossibile la palestra Poi adesso che invece sto capendo è che questo è un gioco bellissimo Il dubbio di sole e luna Non so come c'è non pensare Sole e l'Eletroball, sole e l'Eletroball Sono al 292 22, grazie Mi si può anche portare, ho letto Al livello 100 subito Ma così, prima imparerebbe soltanto Libra Non avrebbe poca vita E poi se non hai tutto il medaglio, come nel mio caso, non ascolterebbe mai Quindi è meglio arriverlo a livello 1, a livello 7 Quello che è, non va bene così Beh, tanto non credo che Proviamo a fare così Sono un bordello Io ci provo, dai Poi Mamma mia ragazze Posso fare tutti i tattacchi e poi le mie curate Non lo metto a capo in dubbio Oh, perfetto Non andate Non dipende, potranno solo 5 4 E che femmina è ancora più debole Sì Conoscere la loro musichetta questa Non riesce a ragionare di mettere l'altra Il tuo gatto, se questo è bello, non l'ho ancora provato Perché letteralmente vorrei avere più E quindi Grazie, ma no Direi di tornare giù Di vendere la pepita perché non ho avuto tempo E magari di fare qualcos'altro Non è una sta gente della polizia se mi ha rotto Mi sono più lì Benissimo, dammeli Ti ordino Dammi i tuoi Pokémon Altrimenti non meritai il mio C'è in si usa Autodistruzione Distrugge il centro Pokémon Ammazza te Ammazza tutti Ammazza pure me Si ammazza lui Ma non me ne frega niente Dammi Almeno mi sono tolta la soddisfazione Che la meritai Madonna, il market è sotto Devo farmi tutta sta strada Per andare a vendere una pepita 9000 14.000 Pokéball Ne prendo oltre 5 Anche 6 per Mimu e Abra E una pozione Le due le prendo il re Così ragazzi Siamo pronti Ad ogni avvenienza Così possiamo fare di tutto Ammetto che non ho il computer Cioè ho il computer Faccio video con il computer anche Ma per fare questi video Non ho il computer Anche Pokémon se non uso Un 3DS Con una videocamera Perché con il computer Per fare video sul computer Come anche molti fanno Anche Youtuber Di poca Di poca importanza Spendono 500 euro Per andare a mandare in Giappone Il loro 3DS Che fra un anno Esce il nuovo 3DS Che non si chiama così Ma il nuovo modello Credo Visto che il Nintendo Switch È uscito quest'anno E il Pokémon Stars Ho quest'anno Il prossimo anno Quindi fra 1-2 anni Quindi Non credo Non che ci sia l'utilità E poi perché Andrò a modificare Un DS Che è perfetto così Cioè Ok Devi salvare qua Non ci lasciamo In 10 minuti Forse se questo Deve essere questo ragazzo Mi c'è un alberello Da tagliare Io però non lo taglio Mi mando Rattata Un Pokémon potentissimo Non ho Gio Nude Così evolve anche un po' lui Non posso perché Anche per scambiare i Pokémon Ci vuole il Nintendo Che è il cavetto Per scambiare Pokémon Quindi non credo Che un Pokémon giallo Si possa scambiare Pokémon E quindi Evolver Geodude Non so Non so che È un po' veloce Ma È una mia qualità Non posso chiamarlo Difetto Perché comunque È una cosa Bostanza figa È una brutta esperienza Con gli Ekans Ve lo dico già Quindi vediamoli Falla breve Paralizzato Vi prego Si La prima volta Che una paralisi Funzioni un Pokémon giallo Il massimo è la seconda E qui lo volevo abbattere Questo eh Arrivo Eccomi qua Non è diventato un riero Quattro Pokémon No ma ragazzi Questo qua lo fa apposta Lo fa apposta Ragazzi Devo catturarmi un bel Sprout Così ho anche un Pokémon Di tipo erba Di squadra Vabbè No è vero Io ho cornuta No Niente bel Sprout Prima Non avevo cornuta Quindi non c'è Trenta E colpisce per due Quindi In due In due Quello Quindi Non so Sono quattro Quattro per due O otto O otto Rimane a ventidue Sì Ci sta Io andavo a tennis Ma Ragazzi Un po' di tempo Per C'è tanto Poi Non è un po' Anche gli altri Arrivano tardi Non è quello che deve arrivare Prima Anche a scuola Ultimamente no Però In generale Sempre E' un po' di quelli Che arriva prima Che tanto poi Arrivano gli altri Tutti in ritardo Quindi alla fine Anche se una volta Arrivo io Anche dopo Calcio Un colpo Mi sono A percorruta Lugino Lugino È brutto Che non devi mai fare Così veloce Perché Non sono brutti colpi Sto colpo Carate Io credo Che userò Una pozione Ecco Lo sapevo che Tanto Non si vede Niente Cambiarlo Cioè se li hai fatti Tutti lei Non che se li hai fatti Non voi state male Ma li hai battuti Tutti lei Ma stanno Lo usano Suggerendo Così Ma che ponte Gio Gio No E questo Dite I murotodi Che parlano Andù 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 Non posso Fare nulla Fanno il loro lavoro Scherzano E io sono qua Che faccio i video Ognuno ha il proprio lavoro E io il mio lavoro E fare scuola Ma va bene così Non riusciamo a perdere No dai Seriamente Io la scuola Ve la faccio Senshru Cornuta Non ce l'avevo mai usato In tutta la mia vita Senshru Si l'ho usato Nelle palese Solo per Farlo colpire Non ce l'avevo mai usato 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 Dai voglio finire Nesta partita Dai voglio finirla Ti prego Pregare serve Mi salio velo 20 Perché avrei perso Che bello E tu non ne hai i dolci Non ce l'avevo mai usato Non ce l'avevo mai usato Non ce l'aveve donna Non ce l'avevo mai usato No, 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 no. Non lo so, non è tanto bello. Aiutiamo, aiutiamolo dai. Grande nonno, che ci infuso la sua fortuna. Pure tre pog, se riusciamo a battere l'intera squadra di questa qui con soltanto Oddish, con soltanto Chari, sarebbe veramente epico. Non userei la pozione perché poi tutte le volte, perché poi tutte le volte andrei ovviamente a, cioè quasi finito, cioè ragazzi un minuto. Cioè, non userei la pozione perché tanto è Pokémon prima, lo uso diciamo un po' da... Non credo che sia, sì, l'unica che si voleva, che ho voluto è Nidoran e credevo che si volesse prima Pidgey, ma con Chari non so se a qualche livello si evolve. Magari si si rivolve già adesso, non lo so. Un minuto sguardo. No. Ok, io direi di salvare qui, perché praticamente poi il tempo è quasi finito, sono le 17 e 7. Mmm, direi proprio di sì. Io adesso direi di andare a vedere se ci sono dei lottatori o degli allenatori che mi bloccano. Allora, gli arrivo laggiù. Qui arrivo quassù. Ha quindi un percorso chiuso. Cosa fa? Cosa fa? Non ci sto separando. E qui, ragazzi, andiamo lì e così si sblocca la polizia. Sì, ragazzi, sentivo il profumo di polizia. Ora, ragazzi, quindi, nel prossimo anno andremo a catturare un Abra e faremo il glitch di Mew. Perché, avendo Abra, possiamo venire qui e fare benissimo il glitch di Mew. Possiamo entrare nel percorso sottostante a questo. Eccolo, si è liberato il passaggio. E devi darci quella di Pokémon e poi di salvare così. Ragazzi, sono veramente contentissimo. Mi sono riuscito ad aiutare un ragazzo in bisogno che si era trasformato in un Midoran. No, non lo so in che Pokémon si era trasformato perché una volta gli artwork dei Pokémon erano tutti così. Una bestiolina, così. Chi c'era soltanto bestie. Io ho praticamente solo bestie, tranne l'uccello. Credo che sia un uccello. C'è anche uno che vendeva in Magikarp. Non è che prendemelo perché vuole l'ho. Non vedete, guardate? No, l'uccello è Pikachu. Ecco perché. Beh, ragazzi. Io direi di andare dalla polizia e ci vediamo nel prossimo video. Che poi bisogna battere anche la telegrotelletta. Io lo ho fatto là dietro. So un po' di cose perché comunque guardo un po' di video per documentarmi su come fare i glitch. Dopo non le guarderò più. Prima ero spaisato. Invece conosco un po' già di più la mappa. Ok, ragazzi. Direi di salvere qui. Ci vediamo nel prossimo video. A catturare Abra. A catturare Mew. Ad avere il quinto Pokémon presente nella nostra squadra. Insieme a Pidgeot. Charizard. Pikachu. Nedoqueen. E poi un altro Pokémon che non so che leggenda lo puoi trovare. Credo mi tu, non lo so. Da Verano Lega. E cattureremo Abra. Quindi, ragazzi. Ci vediamo nel prossimo episodio. Da Poké07. E da Ash. E Pikachu. E quel coso mostriciattolo. Cioè Bill. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao, ciao. Ma mi sono dimenticato di dirvi che mi hanno regalato, alla fine, il bilito della 9M a Anna. Ecco come faceva salire. Eh eh eh.